Bene ragazzi, allora spero che siete pronti per questa diretta dei quattro racconti che vi farò sul mio viaggio che ho fatto nel New Devon in Inghilterra per studiare i lupi con Sean Ellis. Questo dal mio punto di vista sarà sicuramente più interessante, vi vedo che vi stiate aggiungendo, faccio solo una condivisione e poi parto con questo racconto. Siccome ho il sole in faccia, ciao Rocco, non è che vi posso salutare tutti perché non vi vedo neanche tanto e poi vorrò continuare. Poi come avete visto vi rispondo ai commenti, metteteli pure, vi rispondo nel pomeriggio per iscritto ai commenti, vi saluto come faccio sempre. Adesso voglio solo fare questa condivisione e poi partiamo con questo mio viaggio, o meglio, questa terza parte del viaggio che per me è stata la più indimenticabile senza dubbio, perché è stata quella nella quale ho potuto entrare nella recensione dei lupi e interagire con loro. Ecco, devo solo fare questa condivisione, eccola qua e partiamo. Bene ragazzi, intanto spero che vi stiate preparando alle vacanze di Pasqua e perlomeno, visto che ci hanno limitato di nuovo negli spostamenti, vi godrete questi due o tre giorni. Anch'io spegnerò il telefono, credo è già venerdì sera e non lo riaccendo più fino a lunedì a meno. Io lo faccio, lo riaccenderò per i filmati, ma non per utilizzarlo in altri modi, voglio farmi tre giorni di pieno relax. Bene, allora ragazzi, ho visto che siete già più di venti persone, poi so che lo vedete in tantissimi, vi ringrazio. Siete sempre pieni di complimenti e io ve ne sono grato. Allora, per riprendere dalla seconda parte, che ve la potete andare a vedere sempre su questa pagina, se non l'aveste seguita, poi io comunque, anche chi mi segue tramite mail, alla fine, quando farò poi venerdì, che voi sarete voi già tutti in clima vacanziero, non so se mi seguirete o meno, manderò poi un riassunto, come faccio sempre, che questi li trovate anche su YouTube. Quindi, partendo da dove ci siamo lasciati, quando rimanemmo per parecchio tempo, Yoshionelis, qui a casa mia, dove lui ebbe modo di confrontarsi con i miei cani, andammo insieme in montagna a ululare i lupi, cioè, io cercai di sfruttare il tempo, ottimizzare il tempo il più possibile, perché ogni cosa che lui mi diceva, per me era una cosa interessantissima, in parte lo è ancora adesso. Mi è capitato ieri il suo libro, che mi hanno detto che tra l'altro non è più rintracciabile, addirittura è quasi stato messo all'asta, perché la casa editrice non lo produce più, il centro di Yoshionelis, non so a che punto sia, sinceramente, perché so che ha avuto molti problemi col governo inglese per la detenzione di questi lupi, insomma, ci sono stati tanti problemi burocratici, che erano stati fatti anche delle petizioni, ma probabilmente non sono andati a buon fine, perché chi studia gli animali, c'è sempre qualcuno che li vuole bene, non come il sindaco qua di Peveragno, che fa di tutto per farmi chiudere l'allevamento, e quindi questa è una cosa abbastanza normale, forse anche lì vicini di casa, i soliti, che dicevano che i lupi ogni tanto lullavano, hanno fatto di tutto per farli chiudere sto cento, forse ci sono riusciti, ma non so, so solo che il libro non è più disponibile, mi diceva un amico, adesso l'hanno quasi messo all'asta su ebay, io ne ho una coppia e sono andato a prenderla ieri per darle l'indirizzo a questo mio amico che lo stava cercando, la casa editrice che era a Rizzoli, e ho visto, ma me l'ho dimenticato, che mi ero nelle pagine bianche, trascritto il numero di tutte le pagine, e ogni pagina c'è un appunto di una domanda che li feci, quindi se ci penso, povero Sionelli, se l'ho fatto impazzire per tutte le domande che l'ho fatto di tutto ciò che aveva scritto. Quindi noi ci lasciamo con questa promessa che io sarei andato, e lo feci dopo mica tanto tempo, credo un paio di mesi, un mese e mezzo o due, che ci saremo praticamente rincontrati da lui, avremo passato di nuovo uno o due giorni insieme, e come ve l'ho detto non mi ricordo più quanto, e che io dissi così come battuta, così vi come io ti ho fatto incontrare i miei cani, a dire la verità fuori dalla recinzione, e tu adesso in compenso mi devi far entrare nella recinzione dei lupi. Inizialmente da parte sua ci fu una risata, sia di Siong che della moglie, e poi mi dice qualcosa in inglese, come vedremo, poi possible, qualcosa del genere. Morale che io organizzai di nuovo tutto, stabilì di nuovo una cifra per questo corso, che fortunatamente per me questo soggiorno, suo soggiorno in Italia, le nostre relazioni aveva ridotto tantissimo, non so di quanto ma tantissimo. Penso che la seconda volta pagai meno della quarta o della quinta parte, della prima ovviamente. Poi in cambio che io gli regalai un lupo quando io andai laggiù, lui mi diede un quadro che dice che, non dice che, prese nell'IDA o degli indiani, che lo conservo ancora. In quella occasione lui si era già trasferito nel suo centro, che si vedeva, come era scritto nel libro, quante ore di lavoro avevano fatto lui e dei suoi collaboratori per fare queste recinzioni, veramente un lavoro disumano, fatto da zero, che gli aveva impegnati anche abbastanza finanziariamente, e nel quale pensavano di portare avanti l'attività, perché loro immaginavano di poterla portare avanti. E niente, di conseguenza, mi pare di ricordarmi che alla sera al massimo cenamo insieme, mi sembra. Poi il giorno dopo, io dormi lì in un alberghetto che avremmo poi utilizzato tutti, quando feci un gruppo e li portai per l'ultima volta laggiù da Cionelli, veramente bello, vicino all'Oceano Atlantico, con il ritiro dell'Alta Marea, uno scenario anche molto emozionante. Anche la gente tipica del posto, questi locali, tipo birrerie, bellissime. L'indomani lui iniziò con tutta una teoria, mi disse che mi voleva insegnare tanti particolari, che c'erano delle cose che a me avrebbero potuto interessare, mi faceva molto piacere che lui me le insegnasse, continuava a parlarmi dei miei cani, Incredibile, tutte queste cose, morale della favola, che poi iniziamo, finita la parte teorica che andò abbastanza avanti, lui si cambiò, si mise una tuta, ecco una cosa, era un giorno di quelli che uno non avrebbe mai voluto, dovendo lavorare con i lupi, però innanzitutto sono molto frequenti in Inghilterra, secondo lui era abituato a non cambiare modo di lavorare, fortunatamente sia che piovesse, sia che facesse sole. Ed io avevo in qualche modo i sentimenti strani, cioè nel senso, dicevo, da un lato ero contento di avergli chiesto di voler entrare nella gabbia dei lupi, in questa recinzione, dall'altro ero pentito, perché avevo reale paura, perché poi avevo riletto il libro, ho sentito che sti lupi avevano morsicato anche delle persone, secondo avevo un po' approfondito la differenza che c'era da ciò che si dice, che probabilmente è vero, di un lupo che è così allo stato brado e che cerca di far tutto per evitare l'uomo e avevo anche sentito a dire che un lupo allevato invece all'interno di una recinzione, non potendo gestire il territorio come desiderava, era automaticamente in parte simile a un lupo che poi si trovano delle documentazioni anche di filmati su internet quando viene catturato da una tagliola, penso che si chiami così, quelle trappole a tagliola e quindi reagisce, non sa come fare e va contro l'uomo. In realtà i suoi lupi avevano dei comportamenti stranissimi, non ne avevo visto in particolare, almeno non ricordo molti, così diffidenti come farebbe un lupo che non vuole avvicinare l'uomo. Erano tutti abbastanza, si avvicinavano abbastanza alle recinzioni anche perché quando arrivava lui spesso gli dava del cibo e quindi questi, non avendo alternative, ne venivano. Ma non erano gabbie come l'izzo, recinzioni enormi, migliaia e migliaia di metri, fatte di boschi, l'ambiente era molto, erano limitati nella libertà ma le condizioni ambientali per cosa riguardava i dettagli erano state rispettate benissimo. C'era ombra, sole, aveva creato delle tane, perché l'aveva già fatto ma penso che volesse farne riprodurre altre volte. Poi avevano questo dettaglio che avevo già detto, la maggior parte di questi lupi non erano stati, non erano nati lì, erano stati raccolti in vari stati e portati lì perché potessero vivere la loro esistenza in modo più sereno. e non mi ricordo più ma togliendo pochi... poi aveva delle recinzioni con molti ibridi anche e la maggior parte o forse tutti non erano lupi che erano stati catturati in natura perché credo che non sia possibile ma erano tutti lupi di persone che avevano potuto, avevano ottenuto l'autorizzazione ad allevarli in vari stati in base a tutte le leggi che si sono arrivavano un po' da tutto il mondo e dopo erano stati ceduti per vari motivi che non so neanche neanche quali. Lui aveva fatto delle recinzioni veramente a prova di fuga perché era un esperto poi aveva lavorato tanti anni in uno zoo quindi funzionava tutto perfettamente. Allora ricordo che all'inizio lui fece tutta la teoria poi la sua prima prova pratica fu la normale interazione con una tipologia di lupi che era quella che in parte avevo già visto in precedenza cioè entrava si faceva riconoscere dei lupi la stessa cosa che vedi poi fare a Warnard Freund in Germania e loro avevano delle interazioni con lui che era il datore di cibo e li capì immediatamente la differenza che c'era tra il datore di cibo e il non datore di cibo e tutte queste cose. A lui mi piaceva molto perché ovviamente essendo uno che aveva studiato gli animali era molto disilluso di tutte queste cose che invece ancora oggi i cinofili specialmente gli appassionati i proprietari di casa portano avanti volentieri e quindi parlava in modo proprio pragmatico su quello che era il rapporto tra cane e uomo tra lupo in quel caso lì è uomo e lui che lui aveva allevato. e quindi in sintesi la prima dimostrazione che fece non fu niente di particolare semplicemente iniziò a contendersi un po' di più il cibo con i lupi e fece altre cose che non mi ricordo ma non mi rimasero imprese. Ecco una cosa che mi impressionò invece è quando ci condusse io l'altra volta non li avevo visti perché era in un'altra recensione ci condusse da quelli che lui diceva essere lupi con i quali lui non aveva accesso cioè li allevava li teneva come animali ma non aveva avuto mai e non credeva di avere possibilità nemmeno in futuro di instaurare un certo tipo di rapporto queste cose me le confermo poi anche Kurt Koshal in Austria ma poi di questo ve ne parlerò poi nei dettagli allora ci portò a questa recensione e io non avevo mai visto una cosa di questo genere questi lupi ma poi ve l'ho messi nei filmati basta che vi andate a vedere tutti i miei video che trovate su YouTube uno di questi fa parte anche del videocorso sul cane da guardia perché faccio vedere la diversità che può esserci fra lupi che attaccano l'uomo parlando sempre di lupi all'interno di una recensione e lupi che invece socializzano volentieri con l'uomo e già lì mi si è acceso in una lampadina dicendo cavoli ma se questa differenza enorme avviene nei lupi perché non può avvenire nei cani perché c'era ancora questa tendenza a dire le razze le razze tanti mi dicevano se tu facessi una selezione più in consanguinità che io non volevo fare se tu chiudessi le linee di sangue ricevevo spassionatamente consigli da tutti che mi volevano un po' insegnare come fare sapevano che ero partito in questa avventura dei cani da guardia e proprio in questi giorni che sto concludendo il videocorso su come spero di poterlo mettere disponibile dopo dopo Pasqua su come si sceglie il cucciolo dei cani da guardia stamattina alle 5 ero lì attaccato a sto videocorso e mi veniva in mente dire guarda cosa sto scrivendo sto scrivendo l'esperienza che mi sono fatto veramente sulla mia pelle e per arrivare a questa esperienza ne ho sentite di tutti i colori perché stavo mettendo come fare a individuare appunto cosa fare in pratica per individuare come interagire per i cuccioli per vedere se sono da guardia o meno e mi ricordo a suo tempo di averne sentite sentire a dire di tutti i colori veramente incredibile perché poi la gente si appassiona mi ricordo scusate apro una parentesi che una diciamo appassionata di lupi legata con i vari parchi venne a vide praticamente i miei filmati di Sean Ellis volle venirmi ad incontrare come li presentai i miei cani questa si buttò immediatamente in terra iniziò a fare tutte le le cose che aveva fatto Sean Ellis nei video sia con i cani sia con i lupi per vedere se lei invece riusciva in qualche modo ad avere interazione con i miei cani quindi la fantasia dei cinofili è incontrollabile e lì vedere che esistevano questi lupi che se tu mettevi le mani se le mangiavano tante che neanche loro non le mettevano mettevano solo dei pugni si vede in questo filmato proprio i lupi che ringhiano come dei cani proprio avversi al massimo sono molto ispettive a vedere se tu infili qualche dita e loro se lo prendevano e allora le raccomandazioni poi avevo questo mio amico insieme che mi traduceva e diceva oh non mettere le mani non mettere le mani dice di mettere le mani dice ma cazzo mette le mani non ci pensavo neanche tra l'altro alcuni lupi americani ce n'era uno nero altissimo grigio che era veramente incredibile sia di dimensioni sia di aggressività i più aggressivi erano questo grigio e un altro proprio delle tinte classiche dei lupi e intanto imparai quello che tanta gente credono che i lupi grigi siano solo e che non c'entrano niente con questa Francia rivoluzionaria della Turchia parlo dei lupi grigi in natura quelli americani siano grigi o siano più grigi in realtà i lupi grigi sono una grande specie di lupi che poi si dividono in alcune cose ma al di là di questo in qualsiasi nascono lupi neri io non me l'ho mai immaginato infatti dicevo sempre ma ormai questi lupi nascono tutti uguali dice no no non tutti uguali ogni tanto ne nascono di neri oppure dicevo ma questi lupi neri da dove vengono e no sono sempre lupi grigi che a volte nascono così e può darsi che poi in futuro qualcuno abbia provocato degli accoppiamenti volontari fra loro comunque da una cucciolata di due lupi grigi normali che possiamo vedere facilmente su google mettendo grey wolf o timberland wolf poi ci sono questi lupi neri ce ne aveva uno nero almeno grigio scuro uno tinta lupo c'è un normale dei lupi altri ma questi due erano terribili cioè come fanno non proprio come i miei cani perché loro non abbaiavano in quel momento ringhiavano solo ma ringhiavano veramente forte facevano paura e tu avevi l'impressione proprio già di lì della potenza che è un lupo cioè nel senso sfortunatamente lavorando con i cani sono stato morsicato alcune volte di cui una volta anche in modo molto pesante non mi posso però immaginare cosa significhi essere morsicato da un lupo è la sensazione di quando tu ce li hai praticamente a 50 cm da te la capisci subito il lupo è il lupo il cane è il cane il cane più aggressivo del mondo non ti incute questo timore come il lupo quando ti dimostra aggressività poi c'è anche un filmato che mettete su internet mi pare che ci sia scritto shonelli's wolf meat eat the meat qualcosa di genere mangiano la carne se andate lo vedete vedete hanno delle mascelle che sembrano praticamente un caterpillar si aprono così prendono la carne a parte del muscolo la tirano via con una semplicità incredibile cosa che i cani non sono in grado di fare anche i più forti in assoluto cercano di utilizzare i molari ci lavorano un po' attorno invece questi affondano nella carne nel muscolo che è durissimo poi molto tenace voglio dire coriaceo la prendono e la tirano via con una semplicità incredibile allora in quella fase precisa dove tra l'altro eravamo tutti un po' spaventati di questi lupi sconvolti no? ma meravigliati non so neanche come dire con quelle sensazioni che tu dici se escono questi lupi per noi è un grande guaio boh e niente allora lui mi diceva voglio che vai vicino che vedi come sono infatti in un certo punto mi dice tra l'altro voglio che vedi che ringhiano come i tuoi cani lui era come dire era rimasto impressionato del ringhio dei miei cani senti e mi diceva impossibile negare che i cani appunto derivano dai lupi e lui si era interessato molto dei lupi che potevano essere in Asia Centrale questa cosa di questi cani che aveva visto per la prima volta nella sua vita nella mia recensione l'avevano coinvolto e avevamo fatto anche dei progetti allora di fare delle cose insieme scrivere un libro insieme e poi il destino non l'ha voluto non l'ha concesso e niente di conseguenza ero lì con lui e avevo dei pensieri e dicevo mamma mia dico io un po' per dare non so un po' per sentirmi audace allora avevo detto che volevo entrare nella nella recensione dei lupi intanto immaginavo e speravo che non sarebbero stati quelli perché se non c'entrava lui non pensavo che era così matto da far entrare me ma neanche avevo capito che proprio a piombo il 100% non era un po' particolare era per la vita che aveva fatto per alcuni dei suoi comportamenti per come si mimava il lupo e diventava aggressivo voleva mordere pure lui il lupo personaggio che a suo tempo io non so adesso ma a suo tempo faceva un certo effetto proprio la non curanza di buttarsi tra le lordure dei lupi e rotolarsi su loro fare di tutto e un po' aveva fatto anche effetto questi documentari che gli avevano dedicato Natural Geographic ben fatti con la presentazione mi sembrava ancora adesso nonostante l'avessi poi si trasformava se era mangiare così a pranzo sembrava una persona normale quando entrava nella gabbia dei lupi sembrava proprio l'uomo lupo del wolfman perché aveva una padronanza incredibile poi lui aveva l'ambizione di essere il capobranco di questi lupi o meglio non il capobranco non sto dicendo la stupidanza di riuscire ad inserirsi nella posizione sociale dei lupi ed essere comunque dominante su qualcuno di questi lupi aveva cresciuto lupi come dire che dovevano rispettare da lui questa gerarchia che lui mangiava con loro e veramente questo l'ho visto poi a fare anche da Werner Freund anche lui in qualche modo cercava di strappare dei pezzi da questi animali di mangiarli insomma faceva tutte queste cose quindi ero un po' intimorito da lui perché non sapevo quanto mi potevo fidare un po' l'ho visto sti lupi che c'era questo cielo oscurissimo proprio quando dici secondo me oggi è il giorno che mi succede qualche casino perché non c'è quel non era quel sole entusiasmante rassicurante rasserenante no no assolutamente ogni tanto c'erano degli acquazioni si vede mentre facciamo le varie cose una pioggia di rotto incredibile tant'è che il filmato più bello si vede solo da una parte ed è solo in parte nitido poi chi girava questo filmato con una macchina fotografica ebbè la pioggia aveva come dire appannato un po' l'obiettivo eravamo un po' improvvisati così ma poi in quel momento non ci pensavamo neanche perché io avevo timore di sta impresa che mi ero imposto di fare ma Nino che era con me aveva ancora più paura che io la facessi perché il tempo non ci incoraggiava avevamo tutti questa sensazione che sarebbe successo qualcosa di grave e questo l'avevo anche capito dalla serietà che aveva improvvisamente assunto la moglie di Shon dandomi delle dritte ben precise successivamente allora lui a un bel momento disse va bene dai Ezio in inglese adesso tocca a te ecco io ve lo posso giurare mi sembra che io vi racconti una storia da un lato era ciò che io volevo che lui mi dicesse per tutta una serie di motivi perché mi desse questa possibilità perché mi immaginavo che questa cosa mi avrebbe aiutato a farmi conoscere di più perché sapevo che non era una cosa che aveva fatto con nessuno forse con una persona perché mi immaginavo che Shon Ellis avrebbe avuto una storia particolare quindi mi faceva piacere far parte della sua storia e poi mi volevo sentire audace volevo sperimentare questa cosa c'era una paura terribile volevo superare questa paura dall'altra dice veramente ma perché io gli ho detto che voglio interagire con i lupi dal quale da questa sfida questa proposta perché poi ve l'ho già anche detto io ero vegetariano lui aveva fatto tutta sta lezione che se tu non mangiavi carne e non puzzavi anche un po' da carnivoro avevi delle probabilità molto più elevate che il lupo ti avrebbe aggredito io penso che di questa cosa poi ne parlarono perché come ci spostammo da una recensione dall'altra io anche se non lo facevo vedere mi sembrava mi ricordava quei film che poi ti portano al patibolo io iniziavo ad essere molto preoccupato perché avevo impresso appunto questi lupi stavo valutando in quel momento che se prima la figura di Sean Ellis mi rassicurava e mi diceva ma no se te lo dice lui se ti fa entrare lui ti puoi fidare poi mi venivano tutti i dubbi e dicevo ma Sean che io poi l'ho conosciuto ancora meglio qualora succedesse un incidente ma che gliene frega lui forse quello che gli avrebbe importato di più era il fatto che avrebbe avuto problemi col suo centro che poi ha avuto per altri motivi nello stesso tempo sapevo quante mogli aveva delle quali non si occupava sapevo cosa valeva per lui la vita che era stato un mercenario e scrive lui stesso nel libro che aveva ammazzato persone durante le rivolte le guerre non so più in Irlanda sinceramente non me lo ricordo più forse nel Galles in Irlanda forse adesso questo non me lo ricordo più e quindi in quel momento mi giravano 8000 informazioni avevo sua moglie che nel frattempo che facevamo questo percorso di 200-300 metri ci spostavamo da una recensione il mio amico Nino mi diceva ma sei sicuro ma non è che ti succede qualcosa e quindi gli dice Nino ok adesso però lasciami stare un po' tranquillo che ci voglio pensare lui affettuosamente e affettivamente era un po' preoccupato perché forse lo sarei stato anch'io fosse entrata una persona in quel momento con quella pioggia con quel cielo scuro e dopo aver appena visto sti lupi che ci hanno terrorizzato poi a un certo punto avevano fatto una gli avevamo fatto una domanda se quei lupi lì fosse avessero incontrato una persona o se qualcuno fosse andato lì vicino lì dentro l'avessero ucciso con la massima della serenità diceva Ielis e diceva sì sì l'avrebbero ucciso allora dopo che vi dice a quello noi ci dovevamo spostare nello stesso tempo ero consapevole che lui mi avrebbe portato lì dove c'erano sti lupi che erano quelli con i quali io avevo visto che lui si interagiva aveva una perfetta conoscenza allora nel frattempo la moglie di Ielis cos'è che mi diceva in quel momento mi diceva Ezio mi raccomando e mi dava un sacco di raccomandazioni che io ero sempre più terrorizzato e mi diceva innanzitutto devi sempre tenere la bocca aperta perché ciò che può scaturire una reazione violenta dei lupi nei tuoi confronti e quello se non sentono bene l'odore che ti viene da dentro e questo c'era una grande verità perché la faceva in parte anche Werner Freon ma la faceva assolutamente pare a tutti e la faceva lui stesso anche Kurt Koch che era questo che è questo docente della facoltà di veterinaria dell'Università di Vienna grande studioso e quindi lei mi diceva innanzitutto devi sempre tenere la bocca aperta perché ricordati che nel momento in cui ti impedisci di ispezionarti bene loro adesso ti faranno una grande ispezione che tu devi assecondare se non fai niente non ti succede niente ma occhio a fare una reazione immediata perché una reazione immediata causerà sicuramente l'aggressività di Lupi mi diceva tu te la senti no no io me la sento ho accettato questa cosa c'è una paura dell'anima però non è la prima volta nella vita perché la gente è la cosa che pensa sbagliato di me che io sia uno molto coraggioso invece non lo sono per niente è solo sempre stata la mia il mio desiderio di imparare di scoprire cose nuove che mi ha portato in tutti i posti compreso in Asia Centrale man mano che andremo avanti nei vari viaggi che vi racconterò quando sono stato minacciato col coltello in un villaggio della montagna quando sono stato minacciato con una bottiglia rotta nel Kyrgyzstan quando sono stato letteralmente derubato dalla polizia sempre nel Kyrgyzstan insomma tante cose che mi sono successe quando siamo stati attaccati da cani nel deserto del Turmenistan eccetera io ho sempre avuto una paura dell'anima e vi dirò una cosa non sono neanche quella persona che mi piace piantare una tenda nel posto più desolato del mondo e stare lì a soffrire di stenti a me piace da morire ma non sempre si può andare alla mattina presto far tutta la giornata poi se si può tornare in un albergo con le comodità farmi una doccia mangiare un bel pasto parlare in pace di tutte le esperienze e ritornare domani mattina io cerco sempre di organizzarmi così purtroppo non è possibile perché quando si va dietro ai pastori nomadi si è costretti a vivere alla ghiaccio a vivere i loro ospiti dalle iurte a tutte le cose e io sono uno che soffre tantissimo mi addormento per ultimo non sono schizienoso però specialmente per cosa riguarda il dormire mi piace dormire da solo riposarmi tante volte questo non è quindi io non sono mai stato così coraggioso sempre ho avuto questo grande desiderio di conoscere e di provare in prima persona per rendermene conto io faccio così con tutte le cose quindi ero molto impaurito e lei mi diceva te la senti? dice ok dai me la sento allora mi raccomando prima di tutto devi sempre tenere la bocca aperta secondo cerca di respirare a fondo che loro non avvertano che sei teso perché se indagano qualcosa di sospetto ti potrebbero anche angredire dice bello benissimo poi loro hanno solo un modo dove diceva per poterti spezionare e sono questi uno metteranno forse anche tutto il muso dentro la tua bocca io la tenevo aperta ma non esagerato diciamo proprio tutto il muso non esageriamo metteranno il tuo naso cioè il loro naso dentro la tua bocca e tu devi lasciarla sempre aperta perché questo li rassicura perché dall'odore loro capiscono tante cose a me veniva in mente cazzo se capiscono che sono vegetariano da vent'anni questi magari mi mangiano nessuno di loro ha fatto sto sperimento e lo vogliono fare adesso poi nel modo più assoluto non accarrezzarli sulla testa non accarrezzarli sul collo non toccargli la coda non accarrezzarli sopra la schiena quello che puoi fare se vuoi grattarli da sotto poi sicuramente proveranno la tua resistenza sicuramente è possibile che ti diano delle testate infatti se si vede il mio video quando ho finito sembra un pucile e cerca di ottenere ti devi abbassare ecco questo che mi spavento non ti puoi sedere perché può darsi che l'alzarsi immediatamente potrebbe servirti o meglio loro mi dicevano non sederti inginocchiati fu io che scelsi di stare che poi avevo male alle gambe accosciato perché dicevo se mi mi capita mi dovesse mai capitare qualcosa mi dava più sicurezza il potermi alzare e difendermi ma in realtà non c'era questo allora preparato di tutte le cose che dovevo fare rigido con una paura che mi potesse capitare qualcosa entrammo dentro cioè entrammo io Sean e la moglie che mi rassicurava un po' e dicevo cazzo se non mi hanno mai mangiato lei perché dovrebbe bloccare i problemi però nel libro c'era scritto che l'altra precedente moglie una delle tante che ha avuto era stata invece morsicata aggredita eccetera allora entrando lì dentro secondo me il colpo di grazia me lo dia de Choneles dicendo allora qua sono tre lupi che io conosco molto bene sono praticamente sicuro ti faccio venire non mi ricordo più se prima il maschio la femmina questi due indipendentemente da le interazioni che hanno con te proveranno la tua forza la tua resistenza se ti spaventi stai sempre tranquillo cerca di respirare non fare degli scatti la cosa più pericolosa sono queste reazioni non fargli vedere che puoi rappresentare un pericolo per loro fatti fare quello che vogliono loro eccetera che poi questo mi servì tantissimo dopo nella mia interazione dei cani adesso tanti dicono ma come mai tu ti siedi in terra e giri le spalle a un cane di 5-6 anni mordace che l'hai appena preso magari da un mese e già ti siedi lì hai la faccia vicino noi abbiamo sempre sentito a dire che bisogna stare in piedi bisogna come dire rappresentare comunque anche con la postura la dominanza sul cane tutte queste cose che puoi in realtà capire che era il contrario è proprio lì che ti puoi fidare se tu sai tutto come fare per non creare scontro psicologico provocare quello che può essere interpretato come un pericolo al cane che non ti conosce tu hai risolto tutto infatti qual è il problema di adottare un cane adulto non è il fatto di i primi approcci sbagliare perché non si sbaglia è quello che noi non vogliamo accettare che un cane ma quello lo fa anche un cucciolone un cucciolo per almeno un anno noi non siamo veramente nessuno per lui dice no ma mi scodinzola sì ricerca il cibo no ma mi lecca ok perché lecca leccano anche le pecore no ma mi fa questo ecco inutile che facciamo un elenco di no prima che passa un anno questo è il minimo dove nella diciamo convivenza uomo cane e credo anche con i lupi sinceramente non lo so è il tempo minimo che lui ti capisce impara a conoscerti tante cose che tu fai lui capisce nel tempo che non sono un pericolo e di conseguenza le accetta ad esempio cani anche che io di là l'ho già detto molte volte a volte scivolo sul ghiaccio mi è capitato di dargli delle ginocchiate sul muso a cani che per molto meno si irritano ma loro capiscono perfettamente che quella è la conseguenza di qualcosa che non ha funzionato perché tu in quel momento non esprimi nulla nei loro nei loro confronti mi è capitato di pestarli delle zampe anche violentemente ovviamente senza farlo apposta mi sono capitate tante cose d'inverno qui gela ultimamente siamo fortunati ma c'erano stati degli anni che per due o tre mesi noi il ghiaccio non ce lo togliamo mai quindi basta una piccola nevicata tu credi di camminare questi tre o quattro centimetri di neve che sono venute alla notte ci sono delle parti in discesa diciamo più dissestate col ghiaccio e tu cadi tutti gli anni cado a volte anche in modo rovinoso e a volte cado sui cani e quindi loro riescono a intercettare però normalmente è sempre l'anno che serve un po' come minimo e di lì iniziai proprio a capire cosa vi ho appena detto che il modo migliore per rapportarsi ai cani più forti sono di carattere e dimostrare che tu non rappresenterai mai in nessun modo un pericolo per loro ecco perché ormai sono sono giunto alla conclusione di regalare il mio videocorso sul cane da guardia a chiunque acquisti un mio cane anche se ha 50 brevetti perché i 50 brevetti cinofili non ci azzeccano nulla con quello che deve essere un percorso che tu devi fare sicuro al 100% per poter interagire in modo garantito chiamiamola così con cani di forte carattere specialmente di questa tipologia che allevo io e niente quindi mi fecero tutte queste raccomandazioni a un certo punto Sean si girò verso di me e Nino era molto abile vedeva se riusciva a capire non traduceva ogni tanto non capivo proprio niente lui pensava che avessi capito e dice cosa ha detto cosa ha detto perché era preso anche un po' dalla paura dall'agitazione ci mi passavano mille pensieri nella testa come le macchine su un'autostrada e lui mi disse guarda i due che arrivano non ci sono problemi devo solo fare attenzione io dice oh cazzo ma perché non lo chiudi all'altra parte a non far passare quello perché questo qui veramente c'è rischio che ti morga lui come mi disse quello io iniziai a guardare quel lupo e noi ci incontrammo con gli occhi e io vidi negli occhi di quel lupo e fu quello che mi creò più spavento in assoluto la vera intenzione mi ringhiava anche di attaccarmi e lui con questa non cuoranza probabilmente esperienza che io non la vedevo non voleva dividere i lupi questo non l'ho capito forse perché lui è sempre un po' prende sempre un po' le cose così alla leggera come fa tante altre cose e allora permise prima di venire un lupo che in questo momento non mi ricordo forse il maschio per prima che era grigio poi fece venire la femmina e impedì semplicemente proprio col suo fisico quello di come dire di non lasciar passare attraverso questa porta che aveva aperto perché c'era un pezzo dove lui interagiva con i lupi prima di entrare ed era quella dove lui aveva fatto entrare me e poi utilizzava la porta di confine proprio per gestire questa situazione ma l'aveva spalancata si era messo lui con un braccio che gli arrivava più o meno al petto ma fate vedere i lupi continuamente provano a alzare provano a passare sotto lui lo controllava e dice oh cazzo se questo sbaglia un colpo questo arriva e io già mi aveva detto questo io ho visto sto lupo e lo vedevo molto diverso da questi che lui lasciava e dice questo non te lo posso far venire perché questo ti morde senza dubbio dice oh cazzo ce l'aveva a due metri e sentivo cioè mi alitava praticamente sul colpo allora non appena arrivò il maschio io ebbi una sensazione immediata e questa non me la dimenticherò mai più e ha ripagato subito tutta la paura che avevo i soldi che avevo speso prima tutto cosa mi era costato di fatica perché comunque arrivare a Londra poi da Londra arrivare da Sean ci sono parecchi chilometri parecchie ore di automobili quindi mi aveva ripagato di tutto perché come come il lupo mi salto addosso io non fui neanche curante di cosa faceva perché ero impressionato e la prima cosa che mi venne in mente era di chiudere gli occhi e senti una forza ma veramente incredibile a me saltano addosso veramente tanti cani sempre però è una forza facilmente gestibile quella del lupo ve l'ho già detto in un altro filmato mi ricordo la forza trainante che avevano questi poni che sono stati alti un metro forse neanche di meno e quando andavano in calore ne ebbi due uno si chiamava Natalini e l'altro Pasqualino intanto ci andavano in calore delle femmine normali cioè alte uno e boh 70 80 al Garese uno e 70 più o meno niente loro scavalcavano qualsiasi recinzione come gli scoiatoli questo io non mi immaginassi che il poni poteva fare così ma se tu ce l'avevi alla lunghina e pensavi di trattenerlo ma il poni si portava via quando voleva senza un minimo problema mi sono sempre chiesto ma perché allora in altre situazioni si facevano condurre così facilmente ma quando gli veniva l'istinto del calore oltre scavalcare senza troppi problemi uno si fece anche male poi da me niente ti travolgevano ecco io sentì la forza di questi lupi come una forza travolgente e non mi curai in quel momento che loro si strofinavano a me come potete poi vedere sul filmato mi davano delle testate io mi preoccupavo solo di due cose uno che secondo me mi avrebbero spaccato il naso o i denti o qualcosa che sarebbe stata la terza volta invece fortunatamente questi colpi che sentivo quasi come pugni dati in faccia a una persona più che tutto mi prendevano in questa parte infatti poi ero risultato parecchio gonfio mi rimase il segno blu e rosso per qualche motivo sicuramente questo non avveniva a Sean perché non stava lì come una pera come ero io che non sapevo che cosa devo fare perché mi avevano riempito la testa di cosa devo fare di paure di situazioni però quello che mi rimase più impressionato è come loro riuscivano a travolgermi tant'è che più di una volta sia lui che la moglie mi aiutarono tenendo indietro il lupo perché lui in questi test e lui mi aveva detto non porre comunque resistenza guarda che se loro praticamente ti vogliono 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 travolgere e nello stesso tempo tu opponi resistenza loro la prendono come una sfida lo stesso come se tu li vieti di sentire l'odore che ti veniva dentro quindi mi erano a bocca aperta questo non me lo devo dimenticare sicuro poi non devo fare questo e devo fare un sacco di cose allora in quel momento lì che cos'è che ho imparato più importante di tutto che non mi è mai più andato via di mente non mi andrà mai più via di mente la differenza di potenza che c'è fra un lupo e un cane la differenza non è solo dovuta a questo che l'avrete già sentito a dire sulla chiusura mandibolare che il lupo ce l'ha praticamente il doppio di ciò che può produrre al massimo della selezione l'essere umano dicono che lui abbia più o meno 100 chili ogni centimetro quadrato nella chiusura e i cani se è giusto ciò che è scritto su determinati libri possono superare di poco i 50 però è quella cinotecnica della quale non me ne sono mai occupato nei dettagli perché ho altri interessi però molti sostengono questo ma non è questo che mi ha impressionato è proprio vedere intanto come usano le zampe quando si posizionano si mettono due hanno un modo di gestire l'equilibrio che è una cosa incredibile cioè non mi non mi stupisce che se un lupo aggredisce una mucca riesce anche magari ad atterrarla e che un paio di lupi riescono a farle magari con bisonte piuttosto che lo possono fare come niente con un asino eccetera perché è proprio la distribuzione delle forze che è un capolavoro della natura cioè nel senso sono bassi e lunghi di conseguenza quando si alzano diventano altissimi quando appoggiano solo sulle gambe dietro nello stesso tempo l'essere bassi come tu cadi il baricentro basso li permette in un modo praticamente schiacciante di tenerli lì quello che in poche parole tu riesci a percepire una forza travolgente e io poi lui mi aveva detto non porre resistenza a un certo punto la moglie dice sì ok un po' la devi porre perché continuavo sempre a cedere indietro e poi quella parte è stato il filmato che è poi rimasto pubblico una parte prima probabilmente il filmato non è venuto e ci sono state tante cose e niente finita questa esperienza che secondo me è stata la più significativa ah vi voglio dire solo una cosa tutte le volte che sono stato morsicato dai cani ho provato specialmente una di queste volte anzi due di queste volte dei tremori ripetuti per due o tre giorni freddo ma non ho mai avuto insonnia laggiù dove le eventuali ferite mi lasciavano dormire e quindi a volte era braccia gambe o queste cose più braccia della verità e sistemate bene le braccia che non mi dessero fastidio ero riuscito comunque sempre a dormire voi pensate che l'adrenalina mi era salita talmente tanto che sia quella notte che eravamo ancora in quell'albergo sia la notte dopo che ero già a casa di Nino io non chiusi occhi ma veramente come quando ti è successo qualcosa di straordinario mi capitò una cosa simile quando da giovane capottai più volte con un'automobile e poche altre volte oppure quando ti innamori della donna più bella del mondo secondo te pensi che mai la ripotresti ritrovare hai una paura di perderla da morire quindi vai a casa ma col cazzo che ti riesci a addormentare guardi tutti i finali quattro vai a dormire ma non chiudi occhio e magari lo fai poi purtroppo a tutto ci si abitua e dopo per le donne uno impara poi a addormentarsi abbastanza facilmente ma in questa cosa invece fu veramente incredibile sentire questa adrenalina che non mollava mai quindi andai avanti come avessi preso chissà quanti tè o caffè che io non bevo bevo un po' di tè solo quando sono in Asia Centrale perché non c'è altro e niente mi sentivo l'effetto come mi avessero imbottito di guaranà cioè non so avrei fatto qualsiasi cosa un po' per l'entusiasmo un po' per questa adrenalina che mi sentiva e portai a casa questa esperienza che non solo fu per me per sempre indimenticabile fu proprio la prova verso me stesso che un cane non potrà mai essere più forte di un lupo quindi tutte le volte che io vedo questi documentari dove in qualche modo i cani fanno perire i lupi metto subito mi oriento subito nel cercare dove l'inganno beh intanto l'inganno è che aggirano queste cose di giorno è difficilissimo che i lupi attacchino di giorno ma è difficilissimo che i lupi attacchino quando guarda caso c'è lì vicino il pastore guarda caso c'è il telefonino e guarda caso è preparato a fare un filmato tutti i pastori che io conosco che hanno visto i lupi da vicino prima che si organizzassero un minimo beh il lupo era lontano si vede limitatamente quindi vedere questa cosa è ovvio che in quei casi lì si tratta di lupi omenomati forzatamente magari feriti piuttosto che non so cosa gli sia successo o addirittura allevati in cattività che quindi per la frustrazione sono molto più deboli di un cane perché c'è questa la differenza quando vi racconterò l'esperienza fatta più esperienze fatte molto interessanti con Corcoshal questo docente universitario che poi feci fare un convegno anche in Italia ma vi racconterò poi i dettagli e beh ad esempio era incredibile vedere come tutti questi lupi venivano gestiti ed erano tutti sottomessi alla sua femminuccia di Eurasia ma non perché lei apparteneva a una razza particolare aveva doti chissà come semplicemente perché loro erano stati cresciuti poi lui mi spiegò tutti nei dettagli l'importanza che aveva che ha prendali a 10 giorni e non di più e mi spiego tutto come si organizzano ci sono diciamo dei addetti apposta che vanno dove c'è questa cucciolata in cattività stanno là due mesi le lo tolgono alla mamma quando ha 10 giorni lo allevano loro al biberon rientrano con tutti i permessi speciali che solo le istituzioni ovviamente universitarie possono avere o altri enti governativi non i privati purtroppo se no qua c'è un prato che terai ovviamente un lupo 2 e tutte queste cose qui in pratica che maturai queste esperienze mi fecero capire la grande differenza come vi dicevo di potenza quindi da quando iniziai a occuparmi di cani antilupo ma non partì mai minimamente dal presupposto che io davo un cucciolo 2 i lupi non ci sarebbero più avvicinati per i primi anni temo sempre che i lupi arrivino si prendano i cani e si riportano così come so benissimo che se i cani sono diversi sono gestiti bene se si organizza sul territorio i lupi non toccano più una pecora perché è troppo sconveniente per loro e poi la carne ovina la gradiscono fino a un certo punto ve lo getto altre volte un po' come noi mangiamo la minestrina se non c'è nient'altro però se c'è sono le lasagne al forno che vi piace la pasta ovviamente come mangiate un hamburger tutto schiacciato perché non vi fanno rosolare magari qualche animale allo spiedo se vi piace la casa e lì il lupo è la stessa cosa quindi concluderei dicendovi questo che questa esperienza che non me la dimentico tutt'oggi sono contento di averla fatta infatti ho continuato a girare il mondo per ripeterle però da Werner Freund era troppo anziano e poi ve la racconterò l'esperienza non fu possibile anche se forse se per caso fosse durato un po' di più io lo conobbi poco prima che lui morisse morì a 81 anni io lo conobbi a 8 lo conobbi un giorno prima no il giorno dopo del suo compleanno e lui quindi restando in contatto più o meno un anno poi purtroppo per tutti se ne andò aveva già tutta una serie di problemi di salute e con anche Korkosyal però Korkosyal ha solamente lupi perché loro fanno uno studio un po' particolare fanno proprio lo studio sulla differenza che c'è fra un lupo allevato in cattività gestito come un cane che paragonano come studi universitari e centro Korkosyal le reazioni le interazioni tutte le attitudini a trovare delle soluzioni nei confronti ai problemi la differenza fra il cane e il lupo determinati cani di tipo lupoidi più primordiali però studiano questo e quindi è una sensazione diversa nel senso ti senti molto più rassicurato vedi che rapporto hanno loro ma invece con Sean Ellis fu veramente un'esperienza ma si vede anche dei filmati irripetibile non ho mai visto nessuno anche questi che adesso ci vogliono andare non forse per il lockdown ci sarei andato quest'autunno c'è quest'altro cento in Norvegia che visiterò quanto prima che fanno interagire con i lupi io poter come dire interagire con i lupi per me dà un'emozione incredibile quasi non so ci sono alcune cose che mi emozionano molto una è quella l'altra essere in un greggio con i cani e sentire il tintinio delle campane perché probabilmente ricordo tutti i racconti di mia nonna che era una pastora sono quelle cose che non me ne andrei più via e quindi farò altre esperienze ma so già fin d'ora che è molto difficile trovare un'altra occasione non significa impossibile però molto difficile come quella di Sean Ellis poi andai anche negli Stati Uniti e ve ne parlerai Minnesota, Indiana e Colorado per poter incontrare degli esperti di lupi che studiavano le interazioni sui lupi ne ebbi una molto importante in Indiana un'altra in Colorado che è praticamente quella che c'è sempre sul mio profilo e c'è dei cani però furono interazioni diverse gestite da persone più responsabili con dei lupi molto più pacifici abituati i lupi di Sean non so se li abbia ancora dove sia non so nulla di questa situazione non erano lupi selvatici ma erano lupi assolutamente con un altro dinamismo erano stati cresciuti da lupi veramente poi lui era uno che faceva il possibile di non addomesticare molti lo condannavano perché dicevano un giorno o l'altro leggeremo un articolo che Sean verrà mangiato dai lupi per adesso non è ancora mai accaduto però perché ha un modo di allevare i lupi in modo troppo selvatico ecco la grande differenza fu proprio quella credo che quella sarà stata sarà per me l'unica esperienza nella vita nell'aver potuto interagire con lupi non selvatici ma decisamente più selvatici di quelli che poi ebbi occasione di interagire in altre situazioni e magari in altre che incontrerò bene ragazzi non so che ora sia però più o meno ci siamo abbiamo fatto un'ora e mi rimane solo da dirvi che appunto questa con l'adrenalina portai a casa questa esperienza fu la prima volta nella mia vita che alla fine di un'esperienza mi sentivo non voglio che interpretate della mia presunzione in questa dichiarazione un essere superiore un essere superiore nei confronti di questa esperienza diretta perché non ci sarà mai nessuno che riuscirà a convincermi che un cane può competere con un lupo e questo l'ho proprio provato fortunatamente senza morsicatura in questa interazione con lupi di Sionelis che mi ha toccato per sempre la rifarei però non abbiamo più molti contatti non so neanche se si siano appunto sti lupi perché l'emozione è stata forte e oggi la dovessi rifare la rifarei tanto con meno paura la rifarei come con le sensazioni di quando uno va in bici a paura di cadere oppure cade dagli sci e poi si rialza e continua mi servirebbero mi piacerebbe poterne fare altre però la vedo difficile perché lo cercate ovunque ma come lui che a quel giorno mi permise di avere questa interazione in realtà non ne ho viste tante altre e nello stesso tempo sono quasi geloso di questa ex moglie che invece riuscì a farne tante se la cavava veramente bene e ululava veramente bene poi l'altra volta mi insegno anche ululare ma io provai andare a ululare un sacco di volte ma non so se i lupi in quel momento non c'erano il mio ululato che pensavo di averlo imparato bene funzionava ma non ho mai avuto la fortuna di vedere i lupi a rispondere va bene ragazzi vi saluto vi ringrazio di avermi ascoltato spero che vi sia piaciuto questo racconto vi auguro buona giornata a tutti e venerdì alla mezza faremo l'altra l'ultima parte e poi dipende lunedì di Pasquetta bisogna vedere come mi alzo e cosa decido a Pasqua e vedo se farvi appunto non so cosa ci venga dopo so che dopo Sionelis forse c'è il mio viaggio in Tajikistan che non sarà male anche quello perché il Tajikistan è un posto tosto da come dire per lustrare specialmente se nei primi viaggi alle prime armi uno partiva così senza organizzare nulla arrivava in un posto e cercava di raggiungere i pastori che non è mai stato facile ma più o meno togliendo il Turmenistan poi ce l'ho poi sempre fatta va bene grazie di avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata a presto